Fermi tutti! Sono un ladro! Oddio, franzo, prego per qualcosa! Oh, che vuoi da lui? Decidi! O mi prendo la tua fidanzata, o mi prendo la tua Playstation 5! Ehi, io pensavo chissà che cosa volevi! Ma ti accontento subito! Sei un deficiente! Oh, io sti ladri di oggi, non li capisco proprio!